Grazie a tutti. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati nell'ultima puntata e cioè stiamo analizzando il sesto capitolo del documento papale e stavamo parlando dell'importanza dei primi anni di matrimonio quando le coppie di novelli sposi vanno adeguatamente aiutate a percorrere un itinerario di crescita che tenga conto diceva Papa Francesco e dicevamo anche noi nella precedente puntata i giovani sposi sono chiamati appunto a una costruzione artigianale del loro matrimonio cioè a diventare protagonisti di un cammino di crescita graduale che superi le illusioni, le aspettative più o meno false che si erano create prima di sposarsi, le mere rivendicazioni di diritti. Tutta la comunità cristiana deve favorire una pastorale di attenzione alle giovani coppie e alle coppie che sono maggiormente in difficoltà. Papa Francesco dice che bisogna soprattutto aiutare i giovani sposi a trascorrere molto tempo insieme non limitandosi a condividere lo stesso spazio fisico ma prestando attenzione all'altro. è chiaro che non si tratta soltanto di vivere insieme nella stessa casa, si tratta di dialogare, di parlare, di dirsi tutto, di non nascondersi nulla, di prestare appunto le giuste attenzioni l'uno all'altro, le premure, le delicatezze. Un matrimonio è fatto soprattutto di queste cose. Il pericolo incombente, scrive Papa Francesco, è quello di rifugiarsi nella tecnologia, magari poi inventando altri impegni per finire col cercare altre braccia in cui rifugiarsi. La tecnologia è una cosa buona ma se viene usata male può diventare essa stessa un pericolo. Si potrebbe dire che alcuni adulteri cominciano a coltivarsi con un uso insensato del computer, delle chat o di quant'altro. Quindi per aiutare poi i giovani sposi a percorrere adeguatamente un cammino di crescita nel loro matrimonio, Papa Francesco dice che sono importanti i gruppi parrocchiali, così come sono importanti gli esperti, le guide spirituali, la preghiera in comune, tutte indicazioni preziose che vanno sul piano proprio concreto. Una parte considerevole di questo sesto capitolo che stiamo analizzando è dedicata dal Papa alle crisi che possono attanagliare la vita matrimoniale. Anche qui Papa Francesco si mostra molto realistico. Le crisi ci sono, le difficoltà esistono. Potremmo dire che è inevitabile che nella vita matrimoniale ci siano dei momenti di frizione, ci siano delle fasi di appannamento, ci siano dei litigi fra i coniugi. E' inevitabile. Si tratta di gestire bene le crisi, perché scrive il Papa una cosa molto interessante. Ogni crisi, dice, nasconde una buona notizia. Occorre saper ascoltare affinando l'udito del cuore. Ogni crisi può risolversi in un rafforzamento del vincolo matrimoniale, in una conoscenza maggiore dei due sposi. E quindi in questo senso ogni crisi può nascondere una buona notizia. Attraverso le crisi si può migliorare, si può crescere, si può maturare. Chiaro che ci sono crisi comuni che accadono in tutti i matrimoni. Il Papa ne indica alcune. La crisi degli inizi, di cui abbiamo parlato. L'arrivo del primo figlio, per esempio. L'arrivo del primo figlio certamente sconvolge i ritmi di vita, li muta, li cambia. E bisogna riadeguarsi e rimodularsi, così come la vecchiaia dei genitori dei coniugi, che può diventare un problema, no? Come gestire i genitori dei due coniugi diventati vecchi, diventati non autosufficienti, così come un'altra crisi che può accadere in tutte le coppie è, per esempio, l'eccessiva ingerenza dei genitori rispettivi dei due coniugi. Non tutti i genitori hanno l'accortezza di lasciare i propri figli che si sono sposati nella loro autonomia e non tutti i figli hanno la maturità di farsi lasciare dai loro genitori. Anche questo può essere un motivo di crisi, così come motivi di crisi possono essere, certo, le difficoltà economiche, le difficoltà lavorative, le difficoltà spirituali, le malattie. A volte la crisi può nascere, dice il Papa, anche da gelosie eccessive o da cambiamenti fisici a cui si attribuisce un peso troppo grande. Le crisi vanno affrontate sapendo, scrive Papa Francesco, negoziare di nuovo gli accordi fondamentali che sono stati posti alla base del matrimonio, cioè i due sposi vanno aiutati a capire perché si sono sposati, qual è la verità degli inizi della loro decisione di sposarsi, quella è la verità a cui bisogna fare riferimento costantemente per rimodulare il proprio matrimonio. Certo, per affrontare le crisi non vanno trascurate, il Papa lo avverte, quelle ferite che possono riguardare l'infanzia o l'adolescenza, che sono le due età molto importanti sul piano educativo, sul piano della maturazione della persona. Per esempio ci sono alcuni sposi che sono rimasti fermi a una sorta di egocentrismo infantile che porta a pensare che il proprio coniuge debba soddisfare i propri vuoti, i propri capricci perfino. Chi è rimasto troppo infantile deve curare questa ferita, deve uscire fuori da questo egocentrismo tipico di un bambino immaturo, così come è chiaro che a volte si è rimasti bloccati sul piano della espressione affettiva e anche sessuale. Queste difficoltà vanno fronteggiate con esperti adeguati, con consulenze adeguate. La Chiesa in questi ultimi decenni ha cercato di mettere a disposizione anche i propri consultori familiari, ovviamente di ispirazione cristiana, e tutte le comunità dovrebbero attrezzarsi sempre di più nel favorire una sorta di ministero di sostegno alle coppie in crisi o in difficoltà. Al numero 241, Papa Francesco afferma che ci sono casi in cui la separazione è inevitabile o perfino necessaria moralmente. Questo si verifica, scrive Papa Francesco, quando si tratta di sottrarre il coniuge più debole o i figli più piccoli alle ferite più gravi causate dalla prepotenza e dalla violenza, dall'avvilimento e dallo sfruttamento, dalle straneità e dall'indifferenza. Ci possono essere situazioni in cui la separazione è inevitabile o perfino moralmente necessaria. Ecco, poniamo il caso, ahimè, sempre più frequente di uno dei due coniugi, normalmente purtroppo la donna, che subisce violenze anche fisiche in maniera continuativa o minacce o violenze anche psicologiche, lei, i figli, allora queste sono situazioni patologiche gravi in cui la separazione talvolta diventa perfino obbligatoria sul piano morale proprio per sottrarsi anche perfino al pericolo della propria incolumità personale, parliamoci chiaro. È chiaro che la separazione, scrive il Papa, deve essere considerata come estremo rimedio dopo che ogni altro tentativo ragionevole si sia dimostrato vano. Quindi non siamo, come dire, pregiudizialmente come cristiani contro la separazione. Siamo consapevoli però che la separazione diventa pur sempre, come dire, una presa di coscienza talvolta realisticamente obbligata di un, chiamiamolo pure, fallimento del progetto matrimoniale. Papa Francesco esorta a questo punto le comunità cristiane ad accompagnare pastoralmente i separati e i divorziati non risposati che sono rimasti cioè soli e in modo particolare quei divorziati o separati non risposati che hanno subito un abbandono un abbandono da parte del proprio coniuge. Questi fratelli separati o divorziati non risposati possono utilmente nutrirsi dell'Eucaristia e trovare nell'Eucaristia una particolare forza. Invece al numero 243 il Papa si rivolge ai divorziati risposati o che vivono una nuova unione e dice che essi non sono scomunicati debbono continuare a sentirsi chiesa possono utilmente partecipare alla vita della comunità cristiana e a questo riguardo Papa Francesco dice che è necessario rendere più accessibili e possibilmente anche del tutto gratuite le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità matrimoniale questo è un punto che deve starci particolarmente a cuore nella consapevolezza che non sempre i matrimoni celebrati in chiesa sono stati celebrati validamente ci sono molte circostanze molti molti vizi per così dire canonici che possono invalidare il matrimonio che possono farlo dichiarare nullo dalla competente autorità ecclesiastica cioè dal tribunale ecclesiastico questo non deve sorprenderci deve semmai pastoralmente essere utilizzato come uno strumento non da abusare ma da utilizzare proprio per salvaguardare la dignità del sacramento del matrimonio la chiesa non scioglie mai i matrimoni validi la chiesa non permette mai il divorzio di un matrimonio valido voglio dire lo scioglimento di un matrimonio valido però la chiesa ha il dovere di salvaguardare la verità e la dignità del sacramento laddove ci sono stati degli abusi o dei vizi non solo di forma ma anche di sostanza circa il consenso circa le persone che contraggono il matrimonio circa i beni fondamentali del matrimonio che sono la fedeltà l'indissolubilità la fecondità procreativa è chiaro che la chiesa può dichiarare nullo un matrimonio e il papa si è già mosso anche in questa direzione sul piano concreto perché per esempio di recente il papa ha in qualche modo sveltito queste procedure di nullità per esempio non sono più necessari due o tre gradi di giudizio basta un solo grado di giudizio per poter dichiarare nullo un matrimonio il papa dice che possibilmente le diocesi devono anche attrezzarsi per rendere gratuite le procedure di nullità matrimoniale anche questo è un'indicazione pastoralmente molto utile infine il papa dice che bisogna evitare assolutamente che i figli diventino una sorta di ostaggio o che vengano utilizzati per vendicarsi del proprio coniuge questo è un aspetto certamente molto delicato purtroppo in molti casi di separazione o di divorzio poi i figli diventano appunto ostaggio non sanno da che parte schierarsi perché i loro genitori ormai separati o divorziati hanno utilizzato gli stessi figli per litigare questo ovviamente non solo non fa il bene del figlio ma lo ferisce ulteriormente quanto a una situazione interiore che il figlio già specialmente se minore se ancora in fase di formazione subisce con gravi ferite ci fermiamo qui perché il tempo a nostra disposizione è terminato e ci diamo appuntamento alla prossima puntata una buona giornata a tutti quanti voi un saluto cordiale